Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo Amici di Radio Bruno, benvenuti nella nostra postazione qui a Sanremo e sono in ottima compagnia Finalmente sono arrivati The Colors Eccoci qua, però sei troppo lontano Ciao ragazzi, è vero che sono lontani, poi mi vengo lì vicino Allora, come state? Benissimo, benissimo Siete carichi perché è la prima volta sul palco dell'Ariston E guarda, già dalle prove di un paio di settimane fa che abbiamo fatto qui all'Ariston Si avvertiva un'energia potentissima su quel palco lì Che veramente, noi che veniamo dai localini, i clubettini per poi passare nel talent show Ti accorgi proprio del prestigio, lo avverti del palco Non vediamo l'ora, cioè in tanti ci chiedono ma l'ansia, la paura C'è Fino ad ora che siamo veramente a poche ore dall'esibizione Non c'è, c'è solo adrenalina Che è una roba positiva perché non vediamo l'ora di salire sul palco Poi queste sono le ultime parole famose E stasera proprio spengo sul palco E cosa e chi vi ha spinto a partecipare a Sanremo? Quindi a cantare una canzone in italiano, anche se tu hai già scritto tanti brani in italiano Sì, ho già scritto tanti no Ho già scritto in italiano Tra l'altro la mia voce in italiano Su un inedito, i nostri fan l'hanno sentita E non solo i nostri fan l'hanno sentita l'anno scorso Su Assenzio che è una canzone che ho fatto con Petez e Giax e Levante Però diciamo che questa è la prima volta che abbiamo una canzone dei Colors Che proprio rappresenta il progetto al 100% in italiano Perché devi sapere che con il funk Che è il nostro genere principale Serve tanto ritmo E l'inglese, avendo tante parole tronche Ha forse più predisposizione per la, non per la melodia ma per la ritmica lirica Mentre per l'italiano, che finisce quasi tutto per vocale Ti porta un pochettino a stare sulle melodie distese Sai, un po' più, non a caso le cose più famose Della canzone italiana sono super melodiche E invece no, Frida è la prima canzone che ha la stessa sonorità Proprio sia nella voce che nel sound Delle nostre canzoni in inglese Quindi abbiamo detto sì Nel nostro team ci sono un bel po' di personaggetti Belli forti E una volta venne fuori la roba di Sanremo Una volta sentito questo pezzo E noi ci siamo guardati noi e abbiamo detto Ma sì, ci può stare Potrebbe essere una bellissima cosa Presentare sul palco più prestigioso d'Italia La nostra prima canzone in italiano Ecco, le vibrazioni sono praticamente i vostri padrini di battesimo Avete detto così in un'intervista Ecco, c'è qualche consiglio che vi hanno dato Insomma, Francesco vi ha dato qualche consiglio Consiglio noi li osserviamo e sicuramente come con gli Elio Già osservarli ti dà una specie di insegnamento Poi noi tre Cioè noi, Elio e Vibrazioni Veniamo dallo stesso club Abbiamo fatto Prima di fare il primo disco Abbiamo fatto tutte e tre le band La resident band di un locale che si chiamava Le Scimmie Le Scimmie, certo E' molto più evidente a quel tipo di attitudine E sì, loro ci insegnano tanto ancora E già solo osservarli, ti ripeto Ci dà tranquillità Ci credo E invece un commento sulla serata dei duetti? Nella nostra situazione noi abbiamo scelto gli ospiti Non solo per il nome che hanno Ma per la funzionalità rispetto alla canzone Perché la nostra canzone ha un drumming La batteria della nostra canzone si sente tantissimo Quindi chi meglio di Tullio d'Episcopo Può rappresentare il batterista con la personalità Perché non è solo tecnico Lui è musicale E poi qualche settimana fa con Enrico Nigiotti Che abbiamo scoperto proprio un fratello in lui Eravamo in una serata così a Milano E gli abbiamo buttato lì la cosa E lui sai col suo accento livornese Certo e vengo a Sanremo E come no? E certo e vengo E quindi c'è anche lui Ma siamo contenti perché lui è veramente un musicista a 360 gradi Oltre alla bravura come cantautore E l'abbiamo anche sentito Credimi, credimi, non posso cantare No, no, non puoi cantare, non puoi cantare Ragazzi, sarà un Sanremo pazzesco E il fatto che non c'è l'eliminazione Che cosa? Toglie, allora Quella cosa lì secondo me Toglie quella sensazione di competizione Cioè non essendoci l'eliminazione Già pure ne parlavo con Annalisa ieri C'è meno aria di competizione Quindi c'è più predisposizione a uno scambio Sai perché tra noi Colors Che siamo pivellini rispetto a Elio O ai mitici Fu Magari può esserci uno scambio E nelle occasioni che ne so Della foto, di copertina Di tutto il cast di Sanremo Abbiamo avuto modo di conoscerli E ti giuro che c'è proprio un'area bellissima Ma Chiunque Dei personaggi del cast Riesce a regalarci qualcosa E noi speriamo di fare lo stesso con loro Sicuramente Sicuramente Ragazzi Lasciate un messaggio Un saluto per gli amici di Radio Bruno Che vi seguono da sempre Amici di Radio Bruno Noi consideriamo Questo logo L'estate Della nostra estate Però Anche Sanremo E' una figata Radio Bruno Anche a febbraio Pure è figa Radio Bruno Un abbraccio a tutti voi Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Guesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renaud Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli E B per Banca